Tuccia Francesco, letto l'articolo 605 del Codice di Rito in parziale riforma della sentenza in data 31 gennaio 2013 del Tribunale dell'Aquila, appellata dall'imputato Tuccia Francesco e dal Procuratore Generale riconosciuta l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 4 CP in riferimento al reato di cui ha il capo A e riqualificato il fatto di cui ha il capo B ai sensi dell'articolo 586 Codice Penale applica al Tuccia la pena accessoria della interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attirente alla tutela e dalla curatela, conferma nel resto e condanna l'imputato a rifondere alle parti civili costituite le spese di patrocinio del grado che liquidi un euro 2.000 ciascuno per compensi oltre accessori come per legge, motivazione nel termine di 45 giorni. Il collegio ha ritenuto che sussiste l'aggravante di quell'articolo 61 numero 4 e cioè le sevizie e la crudeltà, ha rimodulato la pena mantenendo però alla fine la stessa pena, cioè ha sicuramente riformulato un nuovo calcolo. Per noi è importante, perché era questo comunque che noi volevamo, che venisse riconosciuta la gravità del fatto e questa decisione riconosce sicuramente quanto il fatto è stato grave, altrimenti non ci sarebbe stato il riconoscimento di questo aggravante che per noi è molto importante. Sì, anche perché noi eravamo soddisfatti in primo grado, lo siamo ancora di più oggi perché oggi possiamo dire che sei giudici comunque si sono espressi e hanno tutti e sei ritenuto che il fatto purtroppo è stato veramente grave. Che cosa dice la sua assistita e la famiglia? La famiglia non ha commentato come è sua abitudine fare, io ancora non riesco a parlare in modo compiuto con la famiglia e neanche con la ragazza. Adesso ci parlerò, sicuramente spero io che la ragazza possa trovare un po' di serenità da oggi in poi. Grazie.